Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato da 150 e da Andaf sul codice della crisi d'impresa. Io sono Massimo Campioli e sono un membro del consiglio direttivo di Andaf che è l'associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari. Già sono stato ex vicepresidente e mi occupavo in particolare delle sezioni territoriali in quanto la nostra associazione è appunto suddivisa in 12 sezioni territoriali e tra queste c'è la Sicilia, la Sicilia che è il cui presidente è D'Amico, Filippo D'Amico, che vi porto i suoi saluti perché purtroppo ha avuto un impegno di lavoro che l'ha fatto ritardare quindi non riusciva ad essere qui con noi e quindi porgo anche i saluti a nome suo. Proprio un minuto due minuti per parlare dell'Andaf nel caso qualcuno non la conosca è l'associazione appunto come dicevo dei direttori amministrativi e finanziari ha circa 1700 soci in tutta Italia e di cosa si occupa? Si occupa di organizzare eventi per i professionisti dell'associazione quindi principalmente responsabili amministrativi, direttori amministrativi, CFO e organizza appunto sia a livello territoriale ma anche a livello nazionale in questi incontri. Questo è un incontro un po' particolare sul codice della crisi d'impresa e la stessa Andaf ne ha già trattato in diverse occasioni, anche altre sezioni hanno trattato questo argomento, in particolare è uscito un articolo sulla nostra rivista, la nostra rivista che esce trimestralmente appunto sull'intitolato riforma della crisi d'impresa le procedure di allerta al ruolo del professionista. E per ultimo nell'ambito del nostro programma di formazione Andaf Education avremo un corso esattamente l'11 dicembre proprio sul codice dell'impresa, della crisi d'impresa. Ecco questo è brevemente per darvi alcune notizie sull'Andaf, io ringrazio veramente tutti perché la partecipazione è numerosa, abbiamo avuto circa un centinaio di adesioni e tra queste anche adesioni di altre regioni, cioè anche soci Andaf che sono di altre sezioni. A questo punto non mi resta che lasciare la parola al primo relatore che è il dottor Sebastiano Massimino, partner di 150 e lui tratterà praticamente un aspetto molto importante, diciamo introduttivo, della codice della crisi d'impresa che appunto sono gli adeguati assetti organizzativi e contabili. Sicuramente sono strumenti che sono utili per diciamo iniziare questo percorso. Quindi lascio la parola a Sebastiano. Grazie, grazie Massimo e benvenuti a tutti quanti in questo webinar. Allora sì, il tema appunto che tratterò come ha introdotto il dottore Campioli è relativo agli adeguati assetti societari, quindi organizzativi e contabili alla luce delle modifiche apportate al codice della crisi d'impresa con il decreto legislativo numero 83 di giugno del 2022 entrato in vigore il adesso il 15 luglio 2022 che ha portato delle modifiche profonde al decreto legislativo numero 14 del 2019. Passo a presentarvi anche le slide. Per chi non mi conoscesse io sono Sebastiano Massimino, sono un partner della società 150 Legal & Tax Advisor che è una società sorella di 150 SRL formata da commercialisti e avvocati e ci occupiamo appunto di sostenere le imprese negli aspetti consulenziali e quelli legati in ambito societario, fiscale, legale. Allora partiamo un attimino da quello che era già in vigore da marzo 2019, ossia l'articolo 2086 così come rubricato nella modifica portata alla normativa cioè gestione dell'impresa. Già da marzo 2019 l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva quindi parliamo sia di società di capitali che di persone ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale nonché riattivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Quindi dalla formulazione dell'articolo 2086 sostanzialmente capiamo che c'è un dovere di istituzione degli adeguati assetti societari anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi ma non solo quindi sostanzialmente l'imprenditore è chiamato a verificare l'andamento della gestione della propria società. Questo dal punto di vista operativo cosa significava quando eravamo temporalmente a marzo 2019? Quindi sostanzialmente adeguare gli assetto organizzativi quindi in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali basandosi sulla separazione e contrapposizione di responsabilità dei compiti e delle funzioni e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuno ruolo quindi chi fa cosa e permettere la precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale il monitoraggio e la corretta gestione. Questo chiaramente eh relativa alle best practice eh practice eh formulate anche dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Dal punto di vista dell'assetto amministrativo e contabile significava eh efficienza ed efficacia dei processi aziendali, rilevazione contabile, tempestiva, regolare, corretta, completa e attendibile e produzione di dati utili per l'assunzione delle decisioni gestionali e la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio di esercizio. Dal punto di vista operativo pratico pertanto le società tenute alla redazione del bilancio si sono spesso limitate a denunciare l'esistenza di adeguati assetti societari magari nel bilancio o magari eh all'interno del dei verbali del Consiglio dell'amministrazione o dell'amministratore unico senza però poi una reale verifica degli stessi. Per le società non tenute alla redazione del bilancio invece per le società di persone spesso nulla veniva eh posto in essere. Ora ripeto dico spesso perché non voglio generalizzare. Cosa succede con il decreto legislativo numero 83 del 17 di giugno? Eh viene apportata una modifica all'articolo 3 del codice della crisi di impresa e quindi abbiamo delle rilevanti novità. La prima è che è chiamato a ehm adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugere le iniziative necessarie a farvi fronte anche l'imprenditore individuale. Quindi il duemila e ottantase del codice civile eh viene parallelamente integrato dal codice della crisi di impresa e ehm porta a voca a sé anche queste eh misure idonee per l'imprenditore individuale. Per l'imprenditore collettivo richiama la istituzione degli assetti eh ai sensi dell'articolo duemila e ottantasei ai fini della rilevazione dello stato di crisi e dell'assenzione di idonee iniziative e definisce a seguire cosa si intende quindi cosa eh qual è il contenuto minimo che deve presentare eh l'assetto dell'impresa per essere ritenuto in linea con le previsioni dell'articolo duemila e ottantasei. Al fine quindi ci dice il codice della crisi di impresa di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi le misure per l'imprenditore individuale e gli assetti per gli eh per le per gli enti diciamo collettivi devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta e questa non è una novità perché eh già precedentemente eh avevamo individuato la necessità comunque di rilevare tali squilibri eh abbiamo parlato di eh debit service coverage ratio eh a lungo e di indici che individuavano ehm le ehm la potenziale crisi di un'impresa. A questo viene aggiunto eh la necessità di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per dodici mesi successivi e rilevare appunto i segnali di crisi quindi non più un arco temporale di sei mesi ma addirittura di dodici mesi collegato alla continuità aziendale quindi con una metodologia diciamo di budget di tesoreria eh e di rolling e di eh verifica degli scostamenti sullo stesso e ancora ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolarizzata e effettuare il test pratico per la verifica della regione della ragionevole perseguibilità del risanamento. Vediamo allora i singoli punti ehm abbiamo eh il comma a seguire che ci dice che sono segnali per la previsione di quel comma tre l'esistenza di debiti eh per retribuzione scaduti dalmeno eh trenta giorni eh pari oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni quindi il legislatore ci sta dando delle indicazioni più puntuali circa l'adeguatezza eh degli nostri degli assetti societari l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni e l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste nei confronti dei creditori pubblici qualificati quindi agenzia dell'entrata e riscossione eh agenzia della riscossione e eh IMS e INAIL quindi ehm abbiamo detto eh questa sono segnali di crisi ehm ai sensi della eh dell'articolo tre dobbiamo poi adeguare gli assetti societari al fine di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi sul piano pratico questo eh richiede appunto di essere in grado di predisporre flussi di cassa prospettici tramite budget di tesoreria mensilizzato con un processo di aggiornamento continuo. Per quanto riguarda poi eh in relazione alla perseguibilità della composizione negoziata eh l'imprenditore è chiamato a ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolarizzata e effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole percepibilità del risanamento. In merito a questo punto sostanzialmente eh è adesso operativa e attiva la piattaforma ehm per la quale è possibile effettuare il test pratico eh sulla ehm esposizione eh finanziaria dell'azienda e ehm sempre all'interno della piattaforma è possibile recuperare diciamo le informazioni anche relativamente a quello che è il test ehm eh quindi non solo il test pratico ma anche eh diciamo la ehm tutto quello che sono le informazioni che puntualmente devono essere individuate dall'imprenditore al fine di poter compilare eventualmente la lista di controllo. Il punto qui qual è? Eh sostanzialmente non parliamo solo di di imprese chiaramente in crisi, parliamo però che tutte le imprese devono adeguare le proprie informative perché se non lo fanno tempestivamente e nasce il segnale di crisi l'imprenditore o il presidente del consiglio di amministrazione o il CDA o l'organo di controllo o tutti insieme possono essere chiamati responsabili appunto a una responsabilità tipo personale e quindi patrimoniale circa eh la ehm la gestione aziendale dell'impresa quindi eh la ehm responsabilità diciamo dell'amministratore dell'ordine di controllo eh è una una responsabilità che si eh arricchisce di nuovi contenuti. Eh il test pratico eh sostanzialmente eh riprende eh l'entità del debito che deve essere ristrutturato e i flussi anni al servizio del debito e in piattaforma noi vediamo che eh sostanzialmente ehm possiamo avere dei un indice diciamo un grado di difficoltà dell'impresa che ehm già quando è minore o uguale a uno parliamo di difficoltà contenute quindi sostanzialmente quando abbiamo dei un debito che può essere ripagato eh in meno o al pari di un anno già parliamo comunque di difficoltà il che eh chiaramente mh potrebbe non essere eh nemmeno corretto nel senso magari io ho il mio eh la mia pianificazione strategica per la quale so che sono in grado di ripagare quel debito perché magari ho fatto degli investimenti e so che questi investimenti porteranno nuovi flussi che mi permettono tranquillamente di pagare il debito ma se non se non attenziono sostanzialmente l'andamento eh dell'impresa quindi se non faccio un test preventivo a dire aspetta ma in che posizione mi trovo già di fatto non sto adempiendo a quanto la normativa mi chiede quindi sostanzialmente eh porre in essere il test e dargli anche da da certa eh diventa essenziale per poter dire ok sto procedendo eh per come tu per come tu legislatore mi stai chiedendo di di fare e ehm questo richiede poi sostanzialmente una capacità dell'impresa di avere un piano economico finanziario sempre aggiornato con informazioni di chiese dalla cosiddetta lista di controllo questo perché perché materialmente se io imprenditore vedessi eh mi accorgessi di uno stato ehm rispetto al al test e quindi alla al grado di difficoltà alla quale già la mia impresa può andare incontro che attenzione sono gradi di difficoltà dal mio punto di vista ehm che ehm probabilmente hanno la maggior parte delle delle aziende medio piccole nel senso di quelle aziende che eh non hanno un piano strategico o un budget ehm annualmente ehm eh diciamo ehm che che riporta quelle che sono le ehm la direzione in cui sta andando l'impresa e quindi l'impresa in qualche maniera si muove in maniera eh diciamo in modo spannometrico. Qui abbiamo la necessità quindi di non solo verificare col test ma di organizzare l'impresa alla fine della raccolta di tutti i dati che partono dalla organizzazione dell'impresa quindi l'impresa ha le risorse in tema di personale, in tema di ehm ehm di procedure per far fronte alle eh a eventuali anche momenti di crisi. Prendiamo l'impresa che mh non so perde qualche elemento chiave eh riesce ugualmente a lavorare in dire nella direzione che che si era data o che magari non si era data ma che qui diventa fondamentale darci una direzione per questo parliamo di piano economico finanziario di avere una situazione contabile eh aggiornata correntemente strategie di intervento a rimuovere eventuali cause di crisi e nella aggiungerei nella situazione attuale eh uscendo da due anni e mezzo di pandemia ancora in essere eh con una eh situazione eh politica a livello eh diciamo internazionale particolare che comporta degli aumenti di prezzi come in questo periodo per per molte aziende può diventare un problema a gestire ehm quei flussi che prima magari godevano non so di tassi di interesse piuttosto bassi anche i tassi di interesse aumentano abbiamo degli aumenti di costi energetici che per molte imprese sono difficili da gestire quindi anche questi possono essere segnali da collegare alla continuità aziendale perché eh sono tutte cause nuove che possono eh comportare diciamo delle eh difficoltà per le imprese e quindi ancora eh una proiezione dei flussi finanziari aggiornato al fine appunto della eh possibilità di risanare eh di risanare il debito. A questo punto sul piano pratico ehm che poi è quello che più ci interessa eh diciamo eh abbiamo fatto la premessa dice cosa si è fatto fino a ora? Ok io avevo un ehm avevo dal punto di vista normativo una eh un obbligo cioè di adeguare gli assetti eh societari eh l'ho fatto non l'ho fatto boh chi non era nemmeno chiaro probabilmente cosa bisognava fare e quindi si faceva sempre riferimento a quello che veniva fatto nelle aziende di più grossa dimensione nelle aziende quotate probabilmente ma sono dimensioni che per le aziende piccole o medie possono diventare anche più complesse e attenzione perché ripeto dal punto di vista poi ehm delle del nostro tessuto imperitoriale abbiamo una moltitudine di società che molto spesso sono anche eh piccole sottodimensionate ehm magari società che eh hanno anche fatturati eh interessanti ma che poi eh hanno una gestione totalmente familiare non c'è minima managerizzazione e quindi ehm tu diciamo l'impianto normativo crea delle difficoltà eh potrebbe creare delle difficoltà perché poi nella norma quando noi leggiamo della di queste novità cosa diciamo diciamo dovrebbe essere eh un momento per creare maggiore efficienza dell'impresa ma di fatto l'imprenditore sta lì a correre a cercare di chiudere contratti commerciali eh pagare gli stipendi eh magari trovare il finanziamento per ehm per poter liberare appunto nuovi flussi a fronte dell'attività commerciale ma dimentica eh tutto quello che eh richiede ehm gli adeguati assetti organizzativi e amministrativi e contabili. Sul piano pratico quello che servirebbe e nel contesto mi eh mi soffermo proprio a quello che servirebbe per una ehm diciamo piccola e media impresa eh sarebbe la predisposizione di un manuale interno eh in cui siano descritti appunto oggetto sociale, attività svolta e settore di riferimento per intanto calibrare poi la nostra organizzazione in funzione di una ehm di quella che è la visione della nostra azienda dell'azienda dell'imprenditore, la predisposizione di un organigramma e un manzionale aziendale da cui risultano chiaramente le funzioni e le responsabilità di tutti i soggetti che operano nell'impresa, la formalizzazione per iscritto delle decisioni e delle delibere dell'ordine amministrativo. La redazione di situazione economico, patrimoniale e finanziaria infrannuali eh almeno appunto ogni tre, sei mesi al fine di poter ehm effettuare quel monitoraggio sulla continuità aziendale che eh quindi non non basta più soffermarsi diciamo alla redazione del bilancio e verificare in quel momento se ci sono ancora le caratteristiche. Qui parliamo che il bilancio è ormai il passato, dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo guardare al futuro quindi considerazioni che eh ci permettono di ehm di attenzionare cosa accadrà e anche ricorrendo eh appunto a stime e semplificazioni contabili. Questo perché l'ho scritto? Perché ehm all'interno diciamo della casistica eh delle imprese abbiamo imprese ehm considerando che stiamo parlando di imprese eh collettive quindi mettiamo nelle società di persone che magari hanno addirittura la contabilità semplificata perché stanno al di sotto i determinati limiti di fatturato eh non è così immediato diciamo gestire le informazioni eh di tipo infrannuale. O anche le società non so mi viene a dire un SRL che però non non ha la necessità di tenere le scritture ausiliari di magazzino ma qui il magazzino potrebbe diventare importante attenzionarlo e quindi eh diciamo la il si potrebbe ricorrere a stime e semplificazioni contabili perché magari non abbiamo il dato attuale e certo. E il monitoraggio periodico degli indici di bilancio, dei modelli di scoring e degli indicatori della crisi da verificarsi sulle basi appunto delle situazioni contabili periodiche che abbiamo ehm che vanno eh stilate. e ancora la predisposizione e l'aggiornamento del budget di cassa da intendersi appunto come prospetto ripirogativo per poter verificare eh in qualsiasi momento diciamo la eh tensione finanziaria eh che ehm può essere diciamo ehm può creare un momento di ehm appunto problematico per l'impresa. L'esecuzione del test pratico come dicevo in premessa perché se non lo faccio di fatto come faccio a dire poi eh no non mi trovavo in una sessione di crisi. Allora la la base la base di partenza è dire sono in una sessione che oggi il legislatore vede come crisi? No ho fatto il test pratico eh metto in in atto eh gli accorgimenti per poter essere sempre compliant alla lista di controllo e a quel punto posso dire ok sto facendo quello che mi chiede il legislatore. Se eh invece emergono delle situazioni quindi dei eh semafori rossi rispetto all'attività a quel punto io sono compliant e posso agire informato in maniera eh immediata e quindi esonerarmi dalla responsabilità. Infine la predisposizione di bilanci previsionali avendo cura di proiettare nel tempo non soltanto i risultati appunto economici ma anche dati patrimoniali e finanziari. Io vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per le per le vostre domande e passo la parola all'ottore Campioni.